Resta al suo posto il procuratore generale egiziano Mahmoud rimosso dal presidente Morsi dopo la controversa assoluzione dei responsabili della cosiddetta battaglia dei cammelli lanciata contro i ribelli di piazza Taharir lo scorso febbraio. Dietro al braccio di ferro tra esecutivo e magistratura c'è anche la bozza della nuova Costituzione che cambia i rapporti tra i poteri dello Stato. Il presidente della Repubblica ha il diritto di organizzarsi come vuole ma quando si tratta della posizione del procuratore generale allora legge e costituzione debbono essere rispettate spiega il procuratore che il capo dello Stato ha nominato ambasciatore presso il Vaticano io mi difenderò e difenderò la mia posizione l'indipendenza del procuratore generale e dei giudici lascerò questo ufficio solo se assassinato. E mentre le parti si incontrano per cercare una soluzione concordata sale a circa 200 il bilancio dei contusi degli ultimi scontri avvenuti dopo il verdetto tra sostenitori e oppositori del presidente Morsi e dei fratelli musulmani.